Ci sta mancando più di una cosa, tante cose messe insieme che fanno qualcosa di grosso e il secondo tempo di oggi è sotto gli occhi di tutti. Mi dispiace molto perché questi ragazzi ci mettono l'anima in allenamento, hanno cominciato il campionato benissimo, è un gruppo completamente nuovo che si era trovato da subito e quindi c'erano tutti i presupposti per far bene. In questo momento invece le cose non stanno girando e ci dispiace molto, bisogna dare sicuramente un cambio di prestazioni, di risultati assolutamente. È già il momento di fare qualche diagnosi particolare oppure questa settimana con tre impegni ravvicinati fa sì che si debba pensare solo al campo e al Cittadella? Dobbiamo sicuramente pensare al Cittadella, è chiaro che le diagnosi vanno fatte decisamente, si fanno già stasera, la testa è proiettata a Cittadella ma è continuo movimento dell'annatore, dei giocatori, della società e di tutti. Ci dispiace, ci dispiace molto questi risultati perché la squadra che ha Novara in questo momento, l'organico che ha Novara non merita questo risultato negativo, anche questo di stasera quindi intendo e nulla, bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare, lavorare tanto. Paolo, una sconfitta che fa male, una reazione nel secondo tempo che non c'è stata e forse è l'aspetto più negativo di questa sconfitta, la mancata reazione dopo il gol del vantaggio a Scolano? La cosa peggiore dal momento in cui a fine primo tempo abbiamo difeso abbastanza bene, senza subire grosse occasioni avversarie, anche senza fare, senza creare grosse occasioni ma comunque dal punto di vista difensivo avevamo retto, dal momento in cui abbiamo preso gol non c'è stato un minimo di reazione, tutto il secondo tempo è da valutare in modo negativo da parte del complesso di tutta la squadra. Anche se è difficile anche commentare una partita senza orgoglio, senza reazione, senza niente. Sì, sicuramente non sono felice, felicissimo di dover commentare una partita così, è stato un po' l'apice di questo andamento che stiamo avendo da qualche settimana. Dato che ci sono i giocatori importanti nel Novara con personalità, ci devono tirare fuori nel più breve tempo possibile, cercando di rimanere tutti uniti e concedendo il meno possibile agli altri. Perché in questo momento, che è un momento delicato, bisogna concedere il meno possibile e avere la cattiveria giusta per affrontare le partite. Troppo spesso, dopo il gol dello svantaggio, non siamo mai riusciti a reagire e anche oggi abbiamo avuto questa prova. È una cosa che abbiamo analizzato anche noi, è chiaro che dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Oggi è veramente un grosso punto di domanda quello che è successo, perché sembrava una partita così, eravamo in mano noi per l'inizio di partita, ci siamo squagliati troppo presto. Vuoti, senza grinta, senza temperamento, abbiamo fatto decisamente male e direi in maniera inaspettata. Quindi, non lo so, non ho spiegazione per la partita stasera, sinceramente non c'è nessuna spiegazione. Ecco, c'era qualche elemento nuovo, qualcuno che aveva l'occasione di mettersi in mostra, insomma, chiaramente le risponsi non sono stati positivi, forse anche dei giocatori che sono abituati a dare molto di più. Sì, non ma grappo che mancavano 4-5 giocatori in base, che era tutta una difesa rivoluzionata, perché penso che lo stesso, la squadra in campo, oggi, anche se estremamente giovane, poteva far meglio lo stesso. Non ci siamo stati, quello che mi dispiace veramente è l'aspetto temperamentale, quello che mi lascia molto perplesso, che mi lascia deluso, che mi lascia preoccupato. Questo, di una squadra da noi, che ha sempre avuto tutto l'altro spessore, tutto l'altro carattere, non possiamo fare questi tipi di prestazioni qui, veramente. Se a Crotone abbiamo detto che abbiamo fatto male, beh, oggi abbiamo toccato il fondo. Con degli errori anche abbastanza clamorosi, mister. Sì, purtroppo è quello che ci sta contraddistinguendo in tutta questa fase, perché non è che abbiamo subito chissà cosa, iniziative che il nostro portiere ha fatto parate, penso che ne abbia fatta una, deve averne fatta. Commettiamo degli errori proprio clamorosi, abbiamo dato tutte e due volte la palla all'ascola per farci gol, proprio dai difensori in uscita, quindi quando si commettano questi errori si pagano caramente. Però nel caso ci stanno questi errori, però l'atteggiamento della squadra no. È chiaro che dopo quando prendi il gol vai giù anche di morale e tutto si complica, diventa più difficile, soprattutto poi partiti ravvicinate dopo tre giorni, quindi non si è brillante di arrivare fino alla fine. Però c'erano parecchi ragazzi che domenica non avevano giocato, che erano nuovi, che avevano l'occasione, come diceva il collega, di mettersi in mostra. E questo purtroppo non è stato fatto. È sembrato quasi che nella prima mezz'ora giochicchiata bene, mancasse un po' di cattività e di convinzione per fermare l'avversario, che l'ascoli abbia tratto anche un po' fiducia dai rischi pochi che il Novara che aveva in mano la partita gli faceva correre. Di fatti è qui l'arrabbiatura. L'arrabbiatura è qui perché poi gli errori, come dicevo, ci possono stare. Penso che ne abbia commessi anche alcuni l'ascoli e noi non l'abbiamo punito. Sembrava una partita in mano nostra, tranquilla, senza... Non c'era sentore se non qualche ripartenza, qualche azione che poteva crearci qualche pericolo, ma ci eravamo, direi, ben messi in campo senza subire nulla da loro. Però noi eravamo fuori ai 20 metri e poi ci fermavamo lì. Colpi di tacco, giochiare sul corto senza mai tirare in porta, senza mai fare un cross. No, non può essere. Non può essere aspettare la palla solo sui piedi, girati di schiena e non chiudere mai un'azione. Questa è stata la cosa più negativa. E poi, secondo tempo, invece, abbiamo peggiorato facendo i regali che abbiamo fatto. E questo in qualsiasi categoria di calcio oggi lo paghi. Complimenti, ottima prestazione, sei stato chiamato di nuovo in causa e hai risposto alla grande. Eh sì, diciamo che ho fatto una buona partita, sono contento. Alla fine sono venuti tre punti, quindi meglio di così non poteva andare. Tutti i giovani hanno risposto bene. Non era facile perché, insomma, tenere fuori gente come Scalise e Faísca, insomma, un peso sulle spalle. Partita difficile dopo Reggio, invece, avete risposto presente. No, infatti, in campo eravamo molti ragazzi, però alla fine abbiamo messo sul campo tanta corsa, tanta grinta. Alla fine abbiamo sopperito, diciamo, a queste mancanze, tipo Manuel e Vasco, che ecco, sono elementi importanti. Infatti, Vasco dopo quanto è entrato, anche Manuel, alla fine hanno dato un contributo importante. Però, ecco, ci siamo comportati tutti bene. Alla fine noi ragazzi credo che facciamo bene ogni volta che veniamo chiamati in causa. Come te lo stai godendo questo momento? Per te è cambiato tutto nel giro di pochi mesi? Eh sì, vabbè. Diciamo che oggi è stata un'emozione, perché alla fine, da quando ero bambino, che volevo giocare al Del Duca. Quindi oggi è stato bellissimo, poi i tre punti, fantastico, diciamo. Quanto invece sono stati duri questi giorni dopo Reggio, tantissime polemiche? Eh sì, vabbè, non abbiamo fatto una buona partita, non siamo stati il salto a Ascoli, quindi è giusto che ci sono state un po' di critiche. Però alla fine credo che abbiamo risposto bene sul campo, abbiamo fatto una vittoria che credo i tifosi erano tutti contenti oggi, quindi abbiamo risposto benissimo. Non pareggiate mai? Eh, vabbè, meglio che vinciamo alla fine. No, no, vabbè. Con i tre punti sicuramente. Tre punti sì, però se ci sarà qualche pareggio non fa niente. Oggi abbiamo vinto, quindi è andata benissimo. A livello personale due partite e due vittorie. Sì, quello sì, però potrebbe essere una casualità. Però alla fine è andata bene, mi guado questo momento. Ma senti cambiata la tua carriera da calciatore anche rispetto all'anno scorso? No, no, vabbè, io sto sempre lì con la squadra, cerchiamo di lavorare ogni giorno. Alla fine, ecco, se il mister vuole il mio contributo cerco di farmi trovare pronto. Alla fine non è che è cambiato chissà che. Alla fine, ecco, quando vuole il mister, se si fida di me, mi fa giocare. Alla fine credo di rispondere bene. Simone, assist e gol una grandissima serata. Cinque gol in Serie B sono tanti, ti stai confermando un crack. È anche una bella risposta dopo la brutta partita di Reggio. Sì, è stato importante vincere perché dopo la gara di Reggio Calabria, dove non abbiamo giocato bene, anzi, oggi abbiamo dimostrato che comunque ci siamo rifatti perché abbiamo... Sì, Novara è una buona squadra, però noi comunque non è che abbiamo sofferto così tanto. Poi sono venuti sti due gol e ci fanno risalire, diciamo. Devi una cena a Fezzogin per l'assist? Sì, sì. Vabbè, a lui quest'anno ha detto che quest'anno ti faccio fare gol a te. No, lo ringrazio, abbiamo fatto una bella azione. È stato bravissimo lui a passare, ma un altro avrebbe tirato lì. Lo ringrazio. Bella risposta anche della squadra in generale. Dopo la sconfitta di Reggio, tantissime critiche, siete rimasti concentrati, il mister vi è caricato a dovere, insomma, oggi i risultati si sono visti. Sì, la cosa bella comunque, secondo me, del nostro gruppo è che siamo molto uniti. Perciò discutiamo, anche i più grandi discutono dei nostri problemi nello spogliatoio. Infatti, se ci dovesse un po' di pressione, comunque noi non l'abbiamo sentita. Poi il fatto che giocavamo subito dopo due giorni ci aiutava, in casa poi ancora di più. Perciò adesso andiamo sabato col grossetto, andiamo a provare a vincere anche lì. Nonostante la giovane età, ti senti già un trascinatore di questa squadra? No, vabbè, mi sento che posso dare una mano se continuo così, se continuo a fare bene. Però trascinatore no. I trascinatori sono alti, io per adesso rimango con i piedi per terra. Sento importante come sono importanti tutti, ecco. Quindi l'Ascoli dove può arrivare? Noi siamo un po' strani. Perdiamo, facciamo una brutta partita, poi vinciamo la domenica dopo. Non lo so, secondo me siamo un'ottima squadra. Questo ancora non lo so. Bravo nel secondo tempo, quanto meno bravo nel primo, soprattutto nel finale di gara con quell'occasione. Eh sì. Sono stato, dovevo avuto troppa voce, sono stato troppo veloce, potevo presto parla e basta che prendevo la porta e lì facevo gol. Però vabbè, tanto dimentichiamo, ho fatto gol nel secondo tempo. Obiettivo doppia cifra? Sì sì, però non è che mi faccio la testa, vedo come va e spero di fare il più gol possibile. Mister, una bella soddisfazione, lei si attendeva una prova di riscatto. Primo tempo un po' così così, per nel secondo tempo scioltezza. Nel primo tempo molto in crescita, è chiaro che all'inizio erano un pochino preoccupati, però la squadra era carica. Era carica, io comunque ho cercato, rimaniamo lo stesso equilibrati, anche se alcune volte ripartivamo con i lanci un po' lunghi, però la squadra era carica e sono stati molto bravi a crescere, giocare più alti, dopo abbiamo fatto un gran secondo tempo. Devo dire proprio bene tutti, c'è una grande crescita anche su alcuni che non sono stati un po' criticati. E poi come ho detto in sala stampa, su un partito forte che ho detto sono un grande, perché dai con questa formazione sono un grande. Ha rischiato, però i giovani hanno risposto. Sì, però io non è che, allora dice giustamente la madre, allora se perdevi ero un incosciente. No, beh dopo si mettono i giovani, alcune volte perché io vedo qualcosa, tipo Prestia ha fatto una buona gara fra i meno peggio a Reggio, quindi ho pensato in confermarlo e dare un po' di riposo a chi ha giocato sempre, con occhioli a questa rapidità che ero convinto potesse fare. Cioè non è che uno è incosciente, però è una bella soddisfazione per me e poi per la squadra. Bene, anche Zazzo e Fezzicini davanti, sono intesi a meraviglia. Proprio, ma anche il centrocampo, avete visto Russo che passo stasera, non ha affossati, ha fatto dire go, Daniele Di Donate è rimasto lì sulle disposizioni, che loro davanti erano forti inizialmente, gli abbiamo invece la difesa molto bene. Sono veramente contento, una grande risposta, ma non una grande risposta, una grande risposta a una prestazione non alla loro altezza, ecco. Quindi sono anche contento che l'ho preparata bene perché... Anche a livello psicologico. Sì, bravo, dalla prima incazzatura del giorno che è venuto il Presidente, il giorno dopo mi sono subito pentito, l'ho buttata sul positivo, sul stare sereni, ma soprattutto avere mentalità e lì sono stati bravi a recepire. L'unico neo, l'infortunio di Peccarisi, come sta? Eh, lo so, ho timore che sia muscolare, quindi... Il mistero di Giocappia forse è un Ascoli troppo brutto per essere vero. Qual è la vera dimensione di questa squadra? Ma anche là vi devo dire che l'ho rivista, anche là prima del gol, quindi 27 minuti, avevamo giocato discretamente, ordinati, un po' come a Impoli. Un po' come a Impoli. Se dopo portavamo più avanti la partita probabilmente abbiamo fatto bene anche là. Però prendendo il gol ci siamo un po' disuniti, loro erano molto aggressivi, noi meno, quindi la partita è sembrata molto brutta in quel senso. Però effettivamente la vera dimensione... Certo, noi siamo forti quando giochiamo a questi ritmi, però io non so se possiamo sempre giocare a questi ritmi. L'avevo detto già dopo lo Spezia. Però mi fa piacere che almeno adesso ci sono cambi con i giovani dove possiamo contarci. E poi il mio vero obiettivo è fare queste partite per fare anche un po' di spettacolo, fare un calcio diverso, soprattutto far crescere i giovani per la società. Questo è il mio vero obiettivo. Poi io non credo, non lo voglio dire, cioè che... Noi insomma giochiamo, facciamo buone partite e poi vedremo. È stata una mini settimana, ma come l'ha vissuta con tante notizie anche sui giornali di questo rievocare le ultime tre stagioni, lo spettro della terra negativa? Sì, però io ho detto anche di là, sono sereno, sono molto più sereno. Quando mi ha detto, vabbè tu il messaggio li fai da tanti anni. Sì, però adesso sono molto più sereno perché ho lavorato un anno e lavorare un anno a Ascoli sapete quanto è difficile. Con grandissimi risultati, perché l'anno scorso è stato veramente un miracolo. Quindi io sono molto sereno, io ho dato tutto alla società e continuo con grande passione, quindi ho meno pressione che forse quando ero più giovane. Quindi io lavoro sul campo, lavoro con i giovani, dopo quel che sarà, sarà. Però io ho dimostrato, cioè non devo più dimostrare niente. La classifica che la guarda? E oggi soprattutto abbiamo, ma non era male neanche prima di Reggio, cioè voglio dire... Progettiva? Sì, sì, è una buona classifica, godiamocela. Speriamo sabato di non tornare a fare una partita brutta come l'Asia. Un po' di continuità sulla prestazione, dopo i risultati vediamo. Penso di recuperare almeno Soncini per sabato? No, no, neanche Soncini. Mister, facciamo un applauso ai tifosi, nonostante il freddo non sono stati esiti un attimo. Sì, sì, devo dire che soprattutto all'inizio, no, che eravamo ordinati, però stavamo un po' lì, io l'avevo preparata un po' più aggressiva, non ce la facevamo tanto salire. Invece questo continuo incitamento, perché probabilmente se arriva qualche fischio, qualche cosa, dopo Reggio, no, qualche giovane in campo, poi un pochino calare. Invece siamo andati in crescita e dopo sono stato contentissimo che il gol bellissimo, due gol bellissimi su azione manovrata, sono venuti proprio sotto la curva.